nell'episodio precedente ma buongiorno a tutti da portubanda una forchetta e adesso ci andiamo da sistemare per il pranzo che sarà lì sotto e adesso stiamo uscendo insieme a Cocuzzo e Nayuzzo insieme agli altri ragazzi per fare un bel trekking trekking finito? finito, metà trekking finito dove siamo? siamo arrivati a Porto Corallo uno spettacolo buongiorno a tutti da qui da Portubanda allora ieri abbiamo fatto questo trekking stupendo che ci ha portato poi a Cala Corallo giusto amore? si chiama Cala Corallo? Cala Corallo, passando da Capoferrado, no Capoferrado, passando da Capoferrado si, Capoferrado no, comunque trekking stupendo, meraviglioso purtroppo non siamo riusciti ad avvicinarci troppo a Panna di Zucchero perché nel frattempo è arrivato il tramonto, è andato via il sole quindi siamo dovuti rientrare per evitare di fare tutto il rientro al buio noi ci stiamo per muovere qui da Portubanda dove abbiamo trascorso qualche giorno in uno scenario meraviglioso che è quello che avete visto nei video precedenti dei faraioni lagusteri qui di fronte a noi e ci stiamo muovendo poco distante sempre qui nella costa sud occidentale della Sardegna per dirigerci verso Cala Domestica in realtà lo spot di Cala Domestica non è che sia tutto questo granché ma è bella la Cala e lì trascorreremo giusto il tempo strettamente necessario per consumare il pranzo di oggi poi verosimilmente da lì faremo che cucinerai tu? che cucinerò io e faremo un piccolissimo trekking che da Cala Domestica ci porterà a Cala Lunga e poi da lì probabilmente nel pomeriggio ripartiremo alla volta di Bugerro anche lì un pelino più a nord rispetto a Cala Domestica ma sempre sulla costa occidentale lì a Bugerro ci fermeremo sicuramente alla notte di oggi e domani condizioni permettendo se tutto si allinea vorremmo provare a fare una piccola sessione di surf visto che lì dovrebbe esserci una scuola e quindi anche la possibilità di noleggiare l'attrezzatura necessaria noi quindi tra un po' ci mettiamo ai posti di combattimento vi faccio salutare e dare il buongiorno anche da Cocuzza che è lì bella e buona che riposa da Mr. Lavadora che sta sgrassando tutto prima di partire si, stiamo in una bella piettina Naya dove è? dov'è Naya? sarà al posto di combattimento? fai a guardare eccola qui altrimenti era fuori e va bene va bene va bene oggi il sole splende giornata spettacolare meravigliosa e nulla dai ci aggiorniamo durante l'itinerario il percorso che ci porterà fino a Cala Domestica e poi a Bugerro siamo in tantissimi 20 minuti di strada da qui a Cala Domestica siamo veramente in tanti a muoverci perché siamo noi insieme a Zoe c'è il Pedrone c'è Laura ci sono Steve Vero ci sono Marco e Dalma forse non mi sto dimenticando nessuno ci sono talmente tanti c'è un macello di ci sono già dei campi accesi sì mi sa che dobbiamo accendere anche il nostro ok ci aggiorniamo in viaggio da qua ci sono la prendi così l'amore, l'argo vedi 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 ok dai 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 un pochino ok vai dai ok fermo no vai ancora un po' vai estri qua a destra ok a sinistra è che l'ha il problema no no qua a posto qua non tocca ok vieni avanti qua non tocca vai 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 verso sinistra però verso sinistra no 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 indietro 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 e ok fermo 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 lì fermo lì si è aperto il baule eh lo so si è aperto il bagagliaio ok dai 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 e' in su no 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 così va eh così ce la fa così ce la fa così ce la fa no 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 prima era su Vai dritto, vai dritto così, ok? No, verso sinistra, verso sinistra, no? Prova a andare un po', vai, 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 no, toccherai, toccherai, a molle toccherai, sì, perché lì scende tantissimo la ruota, vieni avanti, vieni avanti, vieni indietro, indietro dritto. Allora gira, gira leggermente a sinistra, ok? Vai, 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 gira, 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 vieni, 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 ok, ora gira a destra, ok? Ok? Adesso vai a destra, piano però, poco a destra, a destra, poco a destra, ok? Vai, 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 vai Sì ma di là poi Secondo me va Prova a andare poco poco Vai 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 Ci sei Vai vai ci sei Vai libero 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 vai 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 sei libero Vai che india Sbaglia vai 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 Perfetto Avanti in attimo Fermati eh Abbiamo ovviamente toccato sotto Adesso bisogna richiudere il bagagliaio Perché si è aperto Secondo me da ci siamo stiamo arrivando nel nuovo spottino però volevo dire una cosa prima dell'arrivo a cala domestica però guidare in sardegna è una vera figata è bellissimo infatti mi sentirei di consigliare a chiunque di non guidare mai di notte in sardegna perché gran parte dello spettacolo è anche per strada è bellissimo bellissimo veramente stupendo comunque stiamo arrivando a cala domestica manca un minuto 700 metri e ci siamo ah c'è tra l'altro l'aerea camper qui aspetta so sta camper però fare vuoto il parcheggio eccoci qua in questo parcheggio asfaltato amicio amicio picciolino 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 che facciamo piccolo gattino Alma è tuo dove ci mettiamo? in mezzo no dove? ah o di fianco lì o in mezzo qua? sciac guarda li metto lì parcheggiati adesso si pranza vediamo se prima dopo pranzo vi facciamo dare un'occhiettina a cala domestica e poi sicuramente dopo pranzo faremo quel trekking di cui vi parlavo prima fino a cala lunga tra l'altro tu lo sapevi che durante questo trekking si passa attraverso un buco nella roccia per arrivare nella spiaggia di cala larga ho sentito parlare lo vedremo insieme arrivati i parcheggiati e adesso Manu ci divizzerà con un pranzo sopraffine un pranzo aspetta un pranzo che dovrà essere molto veloce perché subito dopo pranzo andremo a fare appunto questa passeggiatina e poi scappiamo subito cioè dopo pranzo vi facciamo vedere immediatamente cala domestica questo rapidissimo passeggiatina fino a cala lunga e poi partiamo in direzione appunto bugerro probabilmente ma cosa ci prepari? preparo velocissimamente degli straccetti di soia accompagnati con della ricottina una roba veloce veloce tac tac e ciao scaduti mi piace scaduto ieri si vabbè scaduti olietto tac fuoco a cannone fuoco a no a martello la preparazione è molto difficile a livello di difficoltà medio alta dopo di che si prendono i nostri straccetti attenzione a come li prendete e la soia? la soia che? devi metterci anche la soia dopo no? si però devono cucinare anche un po' con la soia ma dai mettili intatto ma dai mettili intatto mi vuoi insegnare a me il mestiere? si infatti io avrei aspettato che l'olio fosse un pochino più caldo eh appunto quello l'avrei aspettato eh non l'hai aspettato ma io ti ho detto mettili ma io ti ho detto mettili ma un'altra volta c'è la registrazione vedi? va a buttare la plastica che adesso? va a buttare la plastica e adesso aspettiamo che si sbollentano sbollentino si dovrà diventare più caldo comunque va bene va bene chiederti un po' di soia si si te la do assoluta si te la nostra scorta di soia ho buttato la plastica ma qualcuno ci chiede soia eh si mi fregolino qua vedo già con l'insalata pronta dai guarda che qua ci siamo eh sono già andata comunque a fare il trekking ed è super easy ma come caldo veste che figa vero? si ma secondo me è più bella l'altra perché qua c'è un po' di gente la ah beh le guardiamo velocemente entrambi però poi sgommiamo si anche perché teoricamente allora al bar sono andata a chiedere e ha detto assolutamente no dormire qua assolutamente perché no? perché non si può è vietato infatti è vietato grazie raga a dopo a dopo ciao ciao vai eccolo qua che splendore sembra pollo buonissimo 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 adesso mangiamo ciao niente vi sto accompagnando a cala domestica poi da lì facciamo questi altri due passi fino a cala lunga qui è 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 qui che è qui qui è qui è qui è qui qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.